Il caffè è un piacere, se non è buono. Che piacere è? La frase, recitata da un Nino Manfredi dannata in un celebre spot, può essere il mantra di migliaia di produttori e rivenditori di uno dei momenti preferiti da italiani e stranieri. Ma un buon caffè non si improvvisa, ne nasce per caso. Da qui l'iniziativa, una tra le numerose in ambito formativo, lanciata dall'azienda Gubina Caffè Treceri, presso la propria sede produttiva ed espositiva di Padule di Gubbio, dove in questi giorni ha operato uno dei più importanti esperti internazionali del settore, coordinatore formativo di Sky Italy, Andrea Matarangolo. Una a due giorni di degustazioni e formazione indirizzata a baristi e operatori del settore, guidati da un personaggio che ama scegliere la materia prima nei luoghi di origine e segue tutta la filiera produttiva, praticamente fino alla tazzina. Come si sceglie un buon caffè? Allora, il caffè si sceglie in base a quelle che sono le proprie abitudini e i propri gusti. Nel mondo del caffè ovviamente esiste la soggettività, quindi in base a come ci si vuole preparare la giornata, per esempio la mattina consiglio un caffè un pochino più carico, più corposo, anche un pochino più amaro, con un quantitativo di caffeina un pochino più elevato, magari nel pomeriggio o la sera il quantitativo di caffeina deve essere un pochino più bassa, quindi un caffè con una quantità un pochino più alta di arabica, meno caffeina, un pizzico meno amaro, un po' più acido, un po' più bilanciato. Come caffè tercieri abbiamo organizzato questi due giorni di formazione sul caffè per dare qualcosa in più a chiunque interessato al mondo del caffè. Abbiamo fatto due giorni incentrati un po' sulla formazione del barrista per dare più conoscenze ai nostri clienti, ma comunque sia ai operatori del settore del caffè e un giorno invece la seconda sessione sull'assaggio del caffè perché riteniamo che un buon caffè parte dall'assaggio, quindi dalla conoscenza di quello che è il caffè, oggettivamente e non soggettivamente. Io una cosa che dico sempre anche nei corsi di formazione, la filiera è molto lunga. Inizio ovviamente nei paesi d'origine, chiaramente, dove vado spesso, vado con piacere perché sono posti splendidi. Molto bello vedere come il caffè viene appunto lavorato, raccolto, processato e spedito poi qui in Italia. La cosa più bella, secondo me poi, è quella che mi piace di più, una quale metto più passione, appunto la formazione anche rivolta ai baristi. Io ricordo sempre loro che sono forse l'anello più importante di tutta la catena lunghissima che riguarda appunto la filiera del caffè. Anche attraverso un caffè passa la promozione di un'offerta ricettiva? Sì, diciamo che a Gubbio i locali che hanno la possibilità di offrire un buon caffè, un caffè di qualità, ce ne sono. E logicamente c'è sempre bisogno di molta attenzione, molta cura dei particolari, come diceva Andrea, e offrire sempre il massimo delle competenze a disposizione. Un consiglio che ha dato ai baristi? Di fare quello che fanno con passione e soprattutto di aggiungere sempre un particolare, qualsiasi esso sia, perché c'è sempre il particolare che fa la differenza.